La Commissione europea ha sottoposto l'Italia e sei regioni, in particolare Canaglia, tra cui l'Abruzzo, a procedura di pre-infrazione, cioè stanno valutando tutti gli elementi, però hanno già elencato le cose che non vanno rispetto alla valutazione di incidenza ambientale. L'Abruzzo, come noi abbiamo sempre denunciato, è una delle sei regioni inadempienti. Quindi la cosa è molto grave perché l'Abruzzo dovrebbe essere la regione dei parchi, la regione verde d'Europa. Purtroppo l'Unione europea ci ha dato ragione. La cosa grave è che noi queste cose le avevamo dette. Anzi, in Abruzzo era stata approvata una mia legge, preparata insieme agli ambientalisti, ai movimenti, ai comitati, alle associazioni, che prevedeva proprio le cose che prescrive l'Unione europea, anche perché sono scritte nella direttiva Habitat. Percato che questa legge, appena approvata, fu bloccata su insistenza della Confindustria e dell'allora direttore, oggi inquisito, Sorgi, che ha fatto le politiche ambientali dell'Abruzzo sia con il centrodestra che con il centrosinistra. Ma ha anche detto che purtroppo anche l'attuale giunta continua sulla pessima strada, tant'è vero che l'unica norma significativa che hanno fatto è quella per concentrare nelle mani di Alfonso tutte le nomine per quanto riguarda il comitato via. È una cosa molto grave perché la valutazione di incidenza riguarda i siti di interesse comunitario e le zone di natura 2000, il 35% del territorio regionale, e la tutela di specie protette dall'orso Bruno Marsicano fino all'Aquila Reale. Ci dicono che noi ambientalisti blocchiamo lo sviluppo, in realtà in Abruzzo c'è una classe dirigente politica, amministrativa e imprenditoriale da terzo mondo, mentre noi della sinistra radicale, noi ambientalisti, siamo quelli che le direttive europee se le studiano e propongono di applicarla in Abruzzo.